Le borse europee chiudono attorno alla parità una giornata dominata dall'incertezza. Piazza Affari, zavorrata dalle banche, ha registrato l'andamento peggiore. L'indice Fuzzi-Mib chiude in calo dello 0,78%, l'All Share cede lo 0,69%. Sul principale paniere milanese è giornata difficile per il comparto bancario, che oltre alla temporanea sospensione di MPS, ha visto i titoli degli istituti di credito lasciare sul terreno dai 2 ai 3 punti percentuali. Chiudono in rosso anche Telecom, che cede oltre i 3 punti percentuali, e Mediaset, che perde lo 0,75%.